Buongiorno, ben ritrovati, venite ad abbeverarvi alle fonti anche oggi, venerdì 9.00, aprile quando siamo tutti alle prese con la crisi diplomatica innescata dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi sul satrapo turco Erdogan che ha definito un dittatore, un dittatore con cui però bisogna cooperare, ha detto non collaborare, cooperare a livello europeo, perché sappiamo benissimo che poi Erdogan noi lo manteniamo a suon di miliardi di Euro perché faccia da muro circa le migrazioni dei profughi che possono arrivare da quell'area del mondo che si chiama Siria e paesi limitrofi. Quindi si discute di questo, si discute del fatto che Draghi abbia detto che coscienza ha una persona che sapendo di non avere al momento diritto al vaccino salta la fila, sottraendo con il suo vaccino quella dose che invece dovrebbe essere data a un over 85 oppure a una persona fragile perché malata oncologica. Questa mattina sul quotidiano avvenire che è il giornale della conferenza episcopale italiana ai vescovi italiani c'è un articolo in prima pagina, un richiamo ampio a un articolo interno in cui l'Istituto Europeo Oncologico di Milano fondato da Umberto Veronesi, il quale ha in lista tantissimi malati oncologici non solo della Lombardia ma da tutta Italia, è stato costretto l'Istituto a fare una dichiarazione e a dire guardate abbiamo dovuto dire a tutti i nostri assistiti di non continuare a telefonare per un motivo, noi non abbiamo ancora mai ricevuto alcun vaccino da dare ai malati oncologici, forse c'è stato detto, dicono dall'Istituto Europeo Oncologico, arriveranno il 12 aprile, questo giusto per ricordare e abbiamo già detto anche qui una volta che se uno va a vedere le tabelle regione per regione sulle dosi di vaccino anticovid somministrate ci sono i numeri relativi alle categorie prioritarie, gli over 85, gli over 80, gli over 70, i malati, i fragili e poi c'è una voce onnicomprensiva, in calcio a ogni tabella regionale, altri, chi sono questi altri che sono stati vaccinati? Non si sa, purtroppo non siamo in grado di dirlo, se siete stati in grado di vaccinarli, perché poi uno gli va il sangue alla testa, dovreste essere anche in grado, avete fatto un sistema, 20 sistemi diversi di somministrazione delle dosi, per cui in Val d'Aosta si fa in una maniera, in Calabria si fa in un'altra, va tutto benissimo per carità, dopodiché bastava applicare dei criteri tipo quello usato in provincia di Treviso, dove hanno annunciato semplicemente altro che vai sulla piattaforma online, ma quale piattaforma online che siamo un paese in cui le infrastrutture, ci sono zone in cui non prendere il telefono mobile, ma quale piattaforma online, ti iscriviti, poi ti richiamiamo noi, ti mandiamo l'SMS, a Treviso hanno annunciato, Urbi e Torbi, domenica vacciniamo tutti i nati nel 1936, in 12 ore, ci sono 12 mesi in un anno? 12 ore, alle 8 quelli di gennaio 1936, alle 9 quelli di febbraio 1936, ma che ci vuole? Non abbiamo le liste, ah non avete le liste, ma per le elezioni ci sono le liste elettorali o no? Ma l'agenzia delle entrate quando ci manda le lettere dai nostri conteggi risulta che lei non ha avversari, ce l'avrà delle liste l'agenzia delle entrate? Ma come abbiamo 400 amministrazioni pubbliche e non si riusciva a fare una lista in base all'anagrafe? E basta, oltre che il personale medico, vabbè, mi fermo perché sennò mi parte la brocca, invece spero che parta la brocca al mio ospite, vincitore, oggi il livello si alza, notevolmente, vincitore nel 2011 del premio Strega con Storia della mia gente, un viaggio tra la sua gente, la storia della sua famiglia, della sua azienda, ma non soltanto la sua, la sua come archetipo, ripreso nell'ultimo lavoro che ha fatto Economia sentimentale, un altro viaggio, no? In cui parla con le persone che sono state colpite dagli effetti della pandemia sanitaria in quella che è stata definita una pandemia economica, purtroppo. Edoardo Nesi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci possiamo dare del tu, visto che poi privatamente ci diamo del tu, è inutile fare la manfrina del lei, no Edoardo? Direi di sì, direi di sì. Spero di non averti spiazzato con la mia introduzione, ma spesso sono umorale e quindi magari mi sono preparato un discorsetto e poi ne faccio un altro, perché nel frattempo mi arrivavano sul computer le notifiche sugli aggiornamenti della campagna vaccinale e allora non so che riflessione tu abbia fatto su questo momento congiunturale della vita del nostro paese e sotto il profilo dell'emergenza Covid e sotto il profilo, cosa di cui sei attento e acuto osservatore, no? Degli effetti economici della crisi. No, ascoltandoti pensavo che in effetti non solo che hai ragione, ma che è sconfortante pensare che ancora una volta è di fronte alla prova più alta, come quella della vaccinazione generale, l'Italia ha pessima prova di sé, in Toscana per esempio e la mia regione ci sono segnalati per questa decisione abbastanza incomprensibile a parer mio di vaccinare gli avvocati, prima di tutti, come categoria evidentemente a rischio e questo mi ha veramente molto colpito perché sai alla fine se i vaccini ci fossero, se ci fosse ampia disponibilità di vaccini, io mi rendo conto dell'importanza della funzione degli avvocati, dei magistrati, della giustizia, insomma è fondamentale, no? È un ganglio fondamentale, però non è che puoi farlo quando c'è una scarsità, quando soprattutto le persone a cui non fai il vaccino rischiano di morire, perché si sta parlando di questo. Io purtroppo vengo da una città in cui l'ospedale è completamente pieno, i pazienti Covid vengono sparsi in altre residenze più o meno assistite, c'è il più alto tasso di contagi di tutta Italia, siamo in zona rosso ormai da tempo, e quindi questo problema lo sentiamo molto di più, io ho persone che conosco, ho anche amici che sono passati di lì e che in questo momento sono all'ospedale, come ho amici tra i dottori e sono all'ospedale, e quindi sarà che questa cosa la sento di più, ma la giudica veramente è un'incredibile mancanza di intelligenza da parte dei governanti della regione questo tipo di decisione, come lo è in tutta Italia, poi questa furbizia falsa e volgare che fa sì che uno voglia saltare la fila, come diceva il nostro Presidente del Consiglio, no? Questo che alla fine fa male anche trovarsi in un paese in cui saltare la fila vuol dire stavolta non solo avere un vantaggio per te, ma avere uno svantaggio in teoria letale per le altre persone. Posso chiederti brutalmente se Mario Draghi ti piace, se hai registrato un cambio di passo rispetto al precedente Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oppure se secondo te stiamo esagerando con la stima e la considerazione nei confronti di Draghi, persona sicuramente dal curriculum prestigioso, ma che ancora deve dimostrare no, visto che lì, poi neanche da tanto, perché si continua a dire è arrivato da poco, ormai sono un paio di mesetti, per carità, prima di spostare il transatlantico, uno ci mette un po' di tempo, soprattutto se il transatlantico è abituato ad andare piano, molto zavorrato, la cosiddetta nave Italia, con una delle tante immagini retoriche, però che opinione hai di Mario Draghi? Io naturalmente sono uno dei sostenitori di Mario Draghi, l'ho molto ammirato, era Presidente della Banca Centrale Europea, ho ammirato il suo whatever it takes, ho pensato e penso che sia una persona molto capace e in grado sicuramente di governare, si trova certamente di fronte a una serie di difficoltà, prima delle quali è questo fatto che la sanità in Italia è regionale, quindi siamo un po' in mano a quello che decidono le varie regioni sulla sanità, quindi aspetterei prima di andare a dargli contro. Certo è che ha avuto anche un po' di sfortuna, se vogliamo, perché se ci pensate bene, questo fatto che questo vaccino sul quale si era puntato tutto, questo AstraZeneca, poi si sia rivelato così sotto attacco da parte di un po' di tutti, quello è un problema, è un problema grosso, perché in effetti se i vaccini che dovevano esserci non ci sono, non importa quanto bravo sei, poi alla fine le vaccinazioni esce male, no? Ma sì, perché in questi casi si dice il combinato disposto di una serie di circostanze, ieri Luca Ricolfi, noto sociologo, saggista, ci diceva proprio in questo spazio, ma le sembra normale che io che ho 71 anni non so ancora quando e come sarò vaccinato e mio figlio di 35, in virtù del suo profilo professionale, è già stato vaccinato, ce lo chiedeva Ricolfi rispetto alla sua famiglia e di casi così ce ne sono stati più di uno, quindi già questo è il paradosso. Il secondo paradosso appunto è, i vaccini siamo partiti in ritardo, sono arrivati in ritardo, i centri vaccinali, le primule dove tutti saremmo andati a farci inoculare il vaccino, poi si è scoperto, ma perché costruire altri? Abbiamo le scuole vuote, abbiamo le caserme vuote, cioè facciamo i tendoni militari, no? Finalmente abbiamo coinvolto l'esercito, io ho sempre detto, cioè abbiamo l'esercito che non serve a nulla in tempo di pace, sì, a sorvegliare i confini, ma da quale invasione? Ce l'abbiamo, apriamo le caserme, facciamo le tende da campo, vacciniamo, vacciniamo contro l'influenza, contro il covid, facciamo gli ospedali da campo, tutto a rallentatore Edoardo, più la tua insigne collega Michela Murgia che dice che siccome il generale Figliuolo che Draghi ha messo al posto di Arcuri come commissario all'emergenza, la inquieta perché gira con la tuta mimetica. Allora, Figliuolo ha, la inquieta perché gli unici che vanno davanti ai microfoni, ha detto Michela Murgia, in divisa, a parte i poliziotti quando fanno i microfoni, sono i generali golpisti, Pinochet. Adesso, io, va bene tutto, no Edoardo, va bene anche la licenza poetica e letteraria perché è uno scrittore, però certe volte ogni tanto noi la facciamo fuori dal vaso, o no? No, ma sai, voglio dire, io non lo so, sono valutazioni queste che un pochino lasciano il tempo che trovano, siamo di fronte a un problema molto più grande, più ampio. Sul generale Figliuolo, se posso confessare, io preferirei che, come dire, che le sue esternazioni fossero più limitate e che si facesse di più. Ecco, questo sì, cioè che questo ci aspettiamo, no? In realtà dei militari, l'idea che loro siano quelli che fanno le cose, quelli fattivi, quelli che portano le cose a casa e questi continui annunci su arrivi di vaccini e per adesso fanno fatica arrivare in un momento in cui la sensibilità è molto alta a un po' di tutti. Insomma, io starei attento nella comunicazione, ecco, perché poi alla fine quando dici che arriveranno 500.000 vaccini e poi ieri erano 178, insomma, sono pochi. La Germania ieri ne ha fatti 650, insomma, la Francia ha fatti quasi 500.000, insomma, i numeri sono questi, bisogna parlare di questo alla fine, non di altro, no? Bisogna riuscire in tutti i modi a vaccinare più persone insieme perché, come si diceva prima, poi c'è tutto un problema economico che certo è secondario rispetto alla vita delle persone, no? Però non così tanto secondario perché poi alla fine ci sono anche quelli che non si ammalano, quelli che però vivono gli effetti di una pandemia economica che ci ricordiamo molto a lungo, insomma, quindi è estremamente difficile sia mantenere la calma, sia dare dichiarazioni giuste, sia contenersi ed evitare di darle certe dichiarazioni, ecco, come a volte può capitare. No, no, sulla comunicazione, sullo stile della comunicazione generale Fiduolo, diciamo così, io per primo ho, a parte gli annunci che non dovrebbero essere fatti in maniera roboante se poi non vengono suffragati dai fatti, ha uno stile di comunicazione di militare come io ho imparato a conoscerlo attraverso le imitazioni di alto gradimento dove Giorgio Bracardi o Mario Marenco facevano il generale Buttiglione, poi il generale Damigiani che parlavano sempre per frasi fatte, questo Fiduolo ce l'ha, no, dicevo, l'idea della divisa che non mi inquieta se i militari poi però fanno le cose che dovrebbero fare, ma lasciamo stare questo campo, io ho detto che a distanza di un decennio in sostanza tu sei tornato sul luogo del delitto dopo storia della mia gente con cui hai vinto il premio strega, qui raccontavi di te e della tua famiglia, di come l'impatto della globalizzazione aveva avuto un effetto concreto non sui temi macroeconomici, da convegno, no, no, nella vita di tutti i giorni delle persone, dieci anni dopo con l'economia sentimentale sei andato di nuovo a parlare con baristi, partite IVA, disoccupati, industriali, tutti coloro che in qualche modo si sono ritrovati alle prese con la pandemia economica in una società smarrita e impaurita, che differenza c'è in questo decennio, se c'è una differenza o che continuità c'è se c'è? Ma sai, come vittime di un incantesimo ci sono delle categorie che hanno perso dalla globalizzazione e stanno continuando a perdere da questa pandemia e sono molto vicine, sono quasi le stesse, sono quasi sempre i piccoli e piccolissimi imprenditori, perché alla fine anche il negoziante è un piccolissimo imprenditore in qualche modo, pare che l'imprenditorialità insomma sia anch'essa una sorta di virus che ogni tanto si accanisce, pare che invece di essere un pregio diventi un difetto in questi nostri tempi selvaggi. più o meno sono appunto le stesse persone che hanno avuto un problema in casa sostanzialmente o un problema in azienda, come si potrebbe dire. Il crollo che c'è stato, perché c'è stato, perché alla fine sai quando si parla di economia si cerca sempre di parlare di cali percentuali e non si parla del calo in termini assoluti che è stato devastante, per esempio nella mia città nel tessile, ma in gran parte della manifattura bassa, chiamiamola così, fra virgolette, perché bassa non era, però la manifattura non tecnologica diciamo in Italia ha preso una volta spaventoso, non solo i tessili, i mobili, le scarpe, decine di comparti, quasi tutti, quasi tutti in provincia hanno avuto da questa sciagurata decisione di aprire commerci mondiali a qualsiasi paese, hanno avuto un disastro, insomma siamo a contare le vittime sostanzialmente, però quest'idea che poi si vada sempre avanti, si parli d'altro, fa scordare il fatto che per esempio a Prato il 50% delle aziende, più del 50% dei dipendenti, dei tessili dal 2000 a oggi sono finiti, non ci sono più, le persone fanno un altro lavoro, le aziende sono state chiusi e il fatturato che manca, i soldi sostanzialmente che mancano nell'economia cittadina e nazionale, poi quelli non ci sono più, quelli ce li scordiamo e ci si scorda anche pian piano quello che era il nostro stile di vita, che era uno stile di vita che solo ora riusciamo a apprezzare bene. Io parlavo un altro giorno con un mio ex operario, un magazziniere, un personaggio straordinario di quasi 70 anni che raccontava e lui faceva sempre fatto l'operario in vita sua, però che negli anni 80 per esempio andare a mangiare la pizza con la sua famiglia o i suoi amici era una cosa che si poteva fare anche tutte le sere se si voleva, insomma si usciva, andavano ai cinema, andavano a mangiare la pizza e non sentivano un colpa, non era un'uscita quella di andare a mangiare la pizza, era una cosa che si poteva bellissimo fare e questo piccolo riferimento, per dire poco e nulla, racconta però di un'epoca nella quale l'economia funzionava e funzionava come in pochi altri paesi del mondo, se ci pensi bene Antonello, sono pochi paesi nel mondo, in cui anche quelli più ricchi di noi, in cui i poveri, quelli che in teoria dovrebbero essere i poveri, cioè la classe operaia stava invece bene, c'aveva le case, si costruiva le case, si comprava le macchine, si comprava ad avvestirsi, insomma e cose belle si comprava ad avvestirsi, perché alla fine c'era anche soprattutto a Prato questa idea che i tessuti si conoscessero, quindi non è che si andava a comprarci la roba scadente, si voleva in qualche modo a tutti i livelli cercare di avvicinarsi a questo gran sogno della moda italiana, del Made in Italy, comunque sono cose del passato e purtroppo oggi le stesse persone più o meno, quelle che sono sopravvissute e hanno piccole attività, fino adesso sono sopravvissute e hanno lo stesso problema, si trovano di fronte incredibilmente a una sospensione dell'attività che non è data dalle leggi internazionali o regolamenti del commercio, ma da una imprevedibile, incredibile ancora oggi per molti, per me soprattutto, pandemia, insomma la presenza di qualcosa che viene fuori dal nulla e che influenza tutta la tua vista. Scusate, non ho interrotto Edoardo Nesi perché quando parla, parla come scrive e quindi uno poi quando comincia i suoi libri non interrompe, inizia e arriva alla fine, casello casello, però Edoardo in questi ultimi giorni abbiamo visto immagini di scontri, scontri nelle piazze intendo, poi in realtà più circoscritti di quello che l'enfasi mediatica, perché poi siamo nell'era del villaggio globale, tutto rimbalza in maniera virale, il video che sta indignando il web, come se il web fosse una persona, il web sono quelli che si collegano, che guardano i siti porno insieme ai siti di informazione, il web, la frase shock, il video, le immagini che mai avremmo voluto vedere, dopo che è tutta una roba a chiappa gonzi, a chiappa clic in qualche caso, però che ci siano stati degli scontri. Premesso che diamo per scontato che siamo d'accordo che la violenza è sempre condannabile, la rabbia però è difficile condannarla quando la rabbia è motivata dal fatto che in piazza ci sono persone non garantite, perché poi l'altra cosa Edoardo che questa crisi sta provocando è che da una parte ci sono i garantiti, cioè quelli che di Riffo e di Raffa con lo smart working hanno continuato a lavorare, mi spiace dirlo avendo parenti che lavorano nel pubblico, ma i dipendenti pubblici sicuramente sono stati più tutelati in molte situazioni rispetto al piccolo esercente con il negozietto dove faceva la pizza al taglio che gli hanno detto devi chiudere, devi chiudere, e quello però magari ha continuato a dover pagare il mutuo, l'affitto, quindi è chiaro che c'è anche un ulteriore squilibrio dentro una crisi generale, però ecco, io che penso che dalla crisi si possa uscire tutti insieme, ho sentito a proposito delle partite IVA o dei piccoli esercenti o degli imprenditori cesi in piazza, vabbè, ho sentito dire, ma di cosa stiamo parlando? Molti di loro negli anni d'oro hanno fatto il nero e quindi se adesso gli va male è anche un problema, giuro che l'ho sentito, perché poi siamo tutti fratelli ma poi esce il cinismo, se non la violenza fisica, hanno fatto il nero, quindi fra di loro ci stanno gli evasori, non si lamentassero troppo uno, l'altro, avete scelto l'attività privata, l'attività privata come insegnano i manuali, dice che devi contemplare il rischio d'impresa, in questo caso ti è andata male, non è un problema mio, purtroppo è un problema tuo, è una fotografia iperrealistica questa? Ma no, sono stupidaggi, sono cose che non si dovrebbero né dire né pensare, è evidente che poi alla fine la società è composta da tanti contributi che vengono dati, tanti posti di lavoro che vengono creati in ogni settore e deve rispettarli tutti in ogni modo, le persone che sono andate lì a protestare hanno sicuramente esagerato, è evidente, ma l'hanno fatto da persone che non sanno protestare, al netto dell'infiltrazione di Casa Pound dove c'è Cassino arrivano sempre loro, si vedeva bene che le persone che protestavano non erano persone abituate a protestare, sono persone abituate a lavorare che poco più che urlare, sbattere un po' di cansegne non facevano, insomma erano veramente persone esasperate, queste persone esasperate non si possano liquidare in quel modo, nel modo in cui tu dicevi prima te, non si può dire che si facevano in nero, queste sono persone come noi e la società fanno parte della società esattamente come noi, quando noi andiamo al bar, al ristorante sono queste persone per noi e noi ne abbiamo bisogno dell'imprenditoria privata, piccola, piccolissima, media, grande, questo paese ha bisogno, ogni paese ha bisogno, in ogni altra nazione sviluppata e libera queste cose, queste attività vengono favorite il più possibile, è evidente che questa pandemia ha scardinato tutto, però insomma anche nei commenti dovrebbe stare un po' attenti, se i cuochi e i ristoratori scendono in piazza, insomma mi pare sia la prima parte della storia che questo succede, l'esasperazione in qualche modo va ascoltata, se non risolta, perché ora non si può, ma va ascoltata, questo penso. Assolutamente sì, nel senso che il tessuto sociale è composto, è multistrato e immaginare che solo una parte possa essere curata e l'altra se si spraca o si rompe neanche deve essere aiutata a rammendarsi, è del tutto ovvio che non ci porta da nessuna parte, se non a un inasprimento della rabbia che poi appunto è quel deposito di benzina in cui arriva l'agente esterno, tu hai giustamente, in questo caso ti sei riferito a Casa Pound, agli estremisti di destra, ricordiamoci che in un passato in Italia, neanche tanto recente, ci sono state infiltrazioni, si soffia sempre quando si è estremisti sul fuoco del disagio, della rabbia e del bisogno delle persone, ma se c'è un bisogno, una società evoluta, la quale l'Italia si vanta di essere, Giuseppe Conte diceva, siamo un modello per il mondo, nella lotta alla pandemia sarei stato, anche nel caso di Giuseppe Conte, Edoardo sarei stato più cauto nel fare, però è del tutto evidente che non si può marciare in ordine sparso, perché se no da questa crisi ne uscirà sì una parte del paese, il resto, dovendo poi fare i conti con cosa metto in tavola stasera, perché di questo stiamo parlando, alla fine poi quella rabbia può essere strumentalizzata, ma comunque deve trovare una valvola di sfogo. Chiudiamo Edoardo ricordando a chi non avesse letto Economia sentimentale, ma poi se volete vi andate a vedere il profilo sia sul sito della nave di Teseo, che è la casa editrice che ha pubblicato Economia sentimentale, o sui profili social, Wikipedia, di Nesi, trovate tutto, come dire, la sua produzione che è iniziata nel 95, ricordo male, era Fughe da fermo, no? Il 95, sì. Il 95, quindi ormai stiamo andando verso il trentennio Nesiano. Sì, sì. Il trentennio Nesiano, senti, Economia sentimentale ha una parte che riguarda tuo padre, tuo padre che è venuto a mancare, poi ovviamente hai raccontato di come ti abbia educato, come l'hai visto rapportarsi agli altri imprenditori di Prato e dintorni, ai cinesi che stavano arrivando. Ci vuoi tratteggiare brevemente in chiusura un piccolo profilo di tuo papà? Ma sai, è difficile perché per me, mio padre è stato un po' immobile, il fulcro della mia vita, insomma, soprattutto l'ho assegnato lui, l'ho assegnato lui a vivere, a comportarmi, e devo dire che la sua mancanza, tutti i giorni, tutti i giorni che Dio manda a terra, sento che mi manca. Come tutti i giorni hanno perso gli autori, insomma, però è andata molto dura, insomma, per me è stato un po' di quello che spero, che ho dovuto fare nel libro e cercare di raccontarlo perché non mi riusciva più a ripensarlo, no? solo attraverso la scrittura io sono capace di affrontare i problemi in mia vita, nella vita e anche questa volta ho avverito raccontare le parti interessanti, tutti i beni che mandano questa decisione. Io ho perso in questo momento il contatto con Edoardo Nesi, che non so se mi sta sentendo. Sì. Ah, perfetto, ecco, scusami, proprio sul finale ti ho perso, quindi spero che questa mia chiusa non suoni in stridente contrasto con quello che stavi dicendo, ma solo perché ho perso un attimo, a proposito delle reti infrastrutturali del nostro paese, in cui, grazie a Dio, la conversazione è arrivata alla fine, tranne questi ultimi 15 secondi di Edoardo Nesi, che però ha ricordato come non solo lui avverta da figlio la mancanza del padre, come succede a tutti coloro che hanno patito la perdita di uno o di entrambi i genitori, io l'anno scorso durante il lockdown ho perso in tre settimane, prima mio padre poi mia madre, quindi so benissimo di che cosa si parli sul piano emotivo, ma poi nel caso di Edoardo è stato anche un modello di persona che è stato un imprenditore innanzitutto, il padre, il quale nel libro se andate a vedere c'è il racconto di questo viaggio negli Stati Uniti, ci sono tanti particolari, sempre all'interno di un affresco che Edoardo Nesi è bravissimo a fare, rapportando i grandi temi dell'economia, la globalizzazione, il prodotto interno lordo, che tutti noi siamo abituati più o meno ad orrecchiare, rapportato però negli effetti pratici sulla vita delle persone che abbiamo intorno, perché poi l'economia sì è Mario Draghi, la banca centrale, ma poi l'economia è il nostro vicino di casa o il cosiddetto macellaio sotto casa che deve tirare giù la Claire perché non ha più modo di andare avanti. Allora Edoardo grazie intanto di essere stato con noi, è sempre un piacere ritrovarti, noi ci sicuramente lo facciamo, mi ricordo anche che ti avevo moderato una volta in un incontro di giovani imprenditori a Capri, se non ricordo male. Sì, sì, mi ricordo che fu molto divertente l'incontro, mi giacquo molto. Devo ancora ringraziarti se non l'ho già fatto, ma Pietro l'aveva già fatto, fu veramente interessante, forse capirono qualcosa quei ragazzi. Credo di sì, però io ho sempre delle riserve mentali. Ti ringrazio perché la cosa più divertente è quando si può chiacchierare senza rete, senza scaletta, sapendo che comunque alla fine qualcosa di vagamente sensato si riesce sempre a dire, soprattutto quando si ha piacere di avere come ospite un ospite come Edoardo Nesi. Leggete l'economia sentimentale se non l'avete ancora fatto. Grazie Nesi, a prestissimo, noi ci rivediamo lunedì mattina. Mi raccomando, voi seguite sempre le fonti TV, che è la prima tv in streaming italiana, con tutti gli aggiornamenti sull'economia, sulla finanza, sulle borse e non solo. Noi ci rivediamo lunedì mattina alle 10. Buon weekend a tutti!